Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video. Oggi non sono al mare, oggi sono a casa e come tutti i martedì quindi avremo anche la nostra live settimanale di domande e risposte dove andremo a cercare di fare un po' il punto della situazione. Già tanto in questo video andremo a tirar fuori, andremo a snocciolare, bene o male, comunque gli argomenti sono quelli, più che altro la live è un momento, un punto di ritrovo con tutti voi per cercare di stabilire un rapporto e un legame anche un po' differente, ma sappiamo che ci stiamo dirigendo verso Juventus Como questa sera, anzi alle 23.59 di questa sera, quindi un minuto prima della mezzanotte, ci saranno anche l'estrazione del contest su Instagram e su Twitter e scoprirete se potrete venire con me appunto in VIP Box all'Allianz per la prima di Tiago Motta. Ma ovviamente le tematiche non sono queste, almeno non solo queste, noi dobbiamo parlare di quello che sarà il calciomercato della Juventus e di come Giuntuli cercherà di approcciare questi ultimi, ultimissimi giorni. Mancano meno di sette giorni all'esordio ufficiale e io spero che almeno uno, se non due, calciatori possano arrivare alla corte di Tiago Motta. Ieri abbiamo discusso di alcuni giocatori, su tutti quelli che sembrano più caldi, e cioè Cobb Maners e Kalulu. Sono stati due video, uno di seguito all'altro, anche inaspettati perché quello di Kalulu non potevamo prevederlo. Ci sono novità su tutti e due e poi ci sono anche novità in generale sulla Juventus. Perché? Perché Cobb Maners non è stato convocato, non figura tra i convocati, per la Supercoppa Europea contro la Madrid. Domani sera l'Atalanta gioca la partita più speciale della sua vita, della sua storia, e non c'è Cobb Maners. Non c'è nemmeno Zagnolo, Zagnolo per infortunio, ma Cobb Maners per altre motivazioni, così come Scamacca è fuori. Quindi Atalanta è in serie difficoltà da questo punto di vista. Sul mercato il punto è sempre quello. Cobb Maners è un giocatore che ormai, oggi con l'Atalanta, non ha più niente a che vedere. Lui vuol soltanto la Juve, io non so se l'Atalanta sta cercando di aspettare, di vedere se qualche squadra di Premier arriva e butta l'amo e fa un'offerta più alta, perché il caso Todibo ci insegna che fino a che non ci sono gli accordi definitivi, le firme sul contratto, il giocatore è libero di accasarsi poi da un'altra parte. Quindi la Juventus dovrà muoversi, io davvero fatico a comprendere in realtà tutto questo ritardo. Qualcuno ieri addirittura mi ha detto, ma come? Calulu chiusi in sei ore, Cobb Maners, sette mesi, sono anche giocatori diversi, hanno una storia clinica differente, uno status differente, una valutazione differente, sono proprio contesti differenti, non è quello il punto. Però io fatico a comprendere, ormai sono passati giorni da quelle dichiarazioni di Gasperini all'Eco di Bergamo, ormai il giocatore continua a non allenarsi, anche questo è un danno dal punto di vista fisico, perché nel mezzo di una preparazione interrompersi così di punto in bianco può creare anche dei problemi fisici al calciatore. Quindi io non so se c'è davvero un'attesa perché l'Atalanta si sta guardando intorno, perché la Juve non è convinta di andare a dare quei 60 milioni, non lo so. Però oggi siamo in questa fase di stallo che sarebbe anche carino cercare di risolvere il prima possibile. Per quanto riguarda Calulu invece, ieri vi raccontavo di come, secondo me, una trattativa impostata su un prestito oneroso con diritto e non obbligo di riscatto si sarebbe poi rivelata anche una buona trattativa. Alla fine sembra essere confermato, cioè Milano e Juventus hanno raggiunto un accordo sul trasferimento di Calulu dovrebbe essere circa 3 milioni e mezzo per il prestito più 14 per il riscatto e il 10% della futura rivendita. Si parla però di diritto e non obbligo, diritto che diventa obbligo di fronte a alcune condizioni. Potrebbe essere banalmente Calulu gioca il 75% delle partite, quindi tre quarti delle partite a disposizione e Calulu le gioca. In quel caso la Juventus sarebbe ben felice di andare a riscattare il giocatore e il Milan sarebbe ben felice perché andrebbe a cedere il giocatore a delle cifre che considera idonee. Una situazione win-win? Tanti tifosi della Juve non hanno apprezzato questo nome perché comunque si aspettavano un nome più altisonante. Dopo Calafiore e dopo Todiboh probabilmente il tifoso della Juventus si aspettava un giocatore importante. Però ragazzi, io ve lo dicevo anche l'altro giorno, non aspettatevi chissà che cosa in questo momento. È una situazione di emergenza. Se ti saltano i piani, poi devi andare a ripiegare su dei giocatori che sono decisamente meno impattanti. O comunque più che impattanti perché poi il campo può dirti che Calulu è meglio di Todiboh. Non lo puoi sapere. Che magari Tiago Motta lavorando su Calulu riesce a trasformare un giocatore importantissimo. Ma lo possiamo sapere. Sicuramente l'impatto mediatico che hanno i due giocatori è differente. Anche se Calulu ha fatto, secondo me, delle ottime partite col Milan prima di entrare in un vortice di infortuni. Ed è proprio lì che si gioca la partita perché il mio dubbio è legato alle condizioni fisiche del ragazzo. In pre-season ha giocato. E io ho visto anche Calulu utilizzato come terzino destro, più che come centrale. Quindi vediamo un pochettino. La cosa che mi fa sorridere è che... Anzi, due cose mi fanno sorridere. I tifosi della Juve non sono stati felicissimi. I tifosi del Milan invece sono un po' arrabbiati perché vedono in Calulu comunque un giocatore importante per la loro retroguardia. Io ho letto tantissimi commenti dei tifosi del Milan che non erano convintissimi di cedere Calulu a delle cifre così basse a una squadra come la Juventus perché sono dell'idea che, uscendo dai problemi fisici, quel giocatore possa essere davvero uno dei migliori della retroguardia dei rossoneri. Quindi questo già è un dato, ma ripeto, io Calulu l'ho sempre apprezzato. Forse l'ho un po' sopravvalutato anche addirittura. Però poi è un giocatore onesto. Un giocatore che per quella cifra si può assolutamente acquistare a maggior ragione se è in prestito. La cosa che mi fa sorridere, ma dovrebbe farmi incazzare in realtà, è che sono andato a rivedermi un video che ho fatto con Seacolf l'anno scorso. Seacolf tutti gli anni mi domanda se sono disponibile per fare un video su quello che secondo me sarà il mercato della Juve. E l'ho accontentato. È stato pubblicato il 3 luglio 2023. Il video si strutturava così. Simone, per me abbiamo bisogno di un centrale di piede mancino da mettere nella difesa 3. Perché l'anno scorso ci ha giocato Danilo, quindi Gatti è sceltato a destra, ma secondo me la Juventus ha bisogno di un centrale di piede mancino. Si è parlato di Pau Torres, poi è andato in Premier League. Secondo me la Juve ha bisogno di un giocatore del genere. Se non arriva un giocatore di piede mancino, un giocatore del genere, si può anche andare su un giocatore come Calulu, che l'anno scorso si era discusso perché la Juventus stava cercando di cedere a McKennie. Ora, un anno dopo, anzi 13 mesi dopo, siamo qui che la Juve cerca un centrale di piede mancino. Perché se no ci deve giocare Danilo, con la Juve che prova a cedere a McKennie e Calulu diventa un giocatore che vai a prendere se non riesci ad arrivare al centrale di piede mancino. Fa ridere. Perché fa ridere? Ma fa anche riflettere. Perché fa anche riflettere. Perché noi da tempo abbiamo questa priorità e noi da tempo questa priorità non andiamo ad assecondarla. Tutte le volte andiamo a pensare a uno o un giocatore, Pau Torres o Calafiori, poi ci rendiamo conto che sono giocatori molto importanti, probabilmente siamo arrivati un po' tardi e la Premier League arriva al suono di milioni e loro non interessa essere in anticipo perché possono semplicemente aumentare l'offerta e te lo portano via. Questo è quanto. Questo è triste. Però voglio cercare anche di dimostrarvi quello che secondo me è il ragionamento oggi della Juventus fronte ai difensori. Aspettate un secondo che abbiamo schermata. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace, un'iscrizione e un commento proprio adesso che andiamo ad iniziare una discussione lato difesa che secondo me si rivelerà molto interessante. Allora, questi sono i giocatori che la Juventus possiede come difensori. In realtà ne mancano due, anzi tre e sono De Sciglio Rugani e Thiago Jalò tutti e tre fuori dal progetto tecnico della Juventus. De Sciglio desaparecido Thiago Jalò se ne andrà Rugani sta trattando con mille squadre e dobbiamo solo capire dove andrà a finire. Benissimo. Rui e Savona sono aggregati alla prima squadra quindi sono ufficialmente giocatori della prima squadra. Il ragionamento che faccio io è il seguente secondo me almeno due giocatori per ruolo servono e dato che abbiamo due giocatori aggregati dalla next gen per una stagione che sarà la più lunga di sempre almeno un giocatore in più di backup potrebbe essere utile. Io credo che Calulu e Cabal siano pensati bene o male allo stesso modo e vi spiego il perché. Possono fare entrambi il terzino e possono fare entrambi il centrale. Uno di piede destro uno di piede sinistro. Hanno delle storie differenti. Cabal ha fatto una buona stagione al Verona Calulu ha già giocato tante stagioni nel Milan di cui una da titolare una da protagonista ha vinto uno scudetto eccetera eccetera eccetera. Però secondo me l'idea è la seguente. Giocatori comunque veloci resistenti fisicamente che hanno un piede non educatissimo ma nemmeno un piede che è un non lo so da scarpa antinfortunistica si sanno muovere bene all'interno di una linea difensiva e quindi possono interpretare più ruoli. Sono duttili. Ok? Sono giocatori duttili. c'è un problema la Juventus ha tre giocatori di piede mancino all'interno della rosa lui Cambiaso Caval e sono i tre che in questo momento vediamo come terzini sinistri non ha nessun giocatore che possa fare il centrale di difesa se non Caval di piede mancino. Todiboh Todiboh sarebbe arrivato per fare il centrale di difesa e uno tra lui è Bremer a sinistra e l'altro a destra Todiboh è di piede destro non venitemi a domandare ma quindi secondo te se fosse arrivato Todiboh avrebbero fatto anche un altro colpo a sinistra? No la risposta per me è no perché avrebbero investito tante risorse dal punto di vista finanziario su Todiboh dato che Calulu non ti permette anzi non ti va a togliere così tante risorse come ti avrebbe tolto invece Todiboh anche se si tratta comunque di prestiti di là sarebbe stato obbligo e qua hai diritto siccome la Juventus potrebbe pensare di aggiungere un ultimo centrale di difesa o terzino alla lista perché comunque qua i centrali li possono fare Cabal Bremer Gatti Danilo Calulu tu hai 5 giocatori che possono fare i centrali 5 quindi a quel punto di vista sei a posto però secondo me in generale la linea difensiva della Juventus è incompleta non vi sto dicendo che arriverà sicuramente un difensore di piede mancino vi sto dicendo che per me servirebbe almeno un altro difensore per quanto mi riguarda un titolare di piede mancino ma sono il primo a dirvi non ci credo al 13 d'agosto dopo che sono saltate tutte le principali alternative vai a prendere Calulu non ci credo però per me almeno un altro difensore servirebbe vi dico anche proprio papale papale per me sarebbe anche solo importantissimo reintegrare Rugani chi a sinistra ha dimostrato di saperci giocare che non significa che Rugani deve fare il titolare perché abbiamo visto ci sono già 5 giocatori Rugani sarebbe il sesto che può fare il centrale ma in una stagione così lunga averne uno in più o averne uno in meno o avere Rugani che è così affidabile o non averlo preferisco averlo quindi questa stessa difesa Rui Savona Rugani Cambiaso Cabal Bremer Gappi Danilo Calulu per me sarebbe già un pacchetto completo dal punto di vista numerico e delle soluzioni poi per la qualità dovrà metterci mano molto Thiago Motta per cercare di far venire fuori questi giocatori anche nelle rotazioni con questi giocatori qui quale sarebbe la formazione titolare difensivamente e non della Juventus con anche gli altri colpi che stiamo leggendo al momento per me è una roba di questo tipo per me con i giocatori di disposizione della Juve Cambiaso gioca a sinistra Calulu gioca a destra Bremer e Danilo vanno in centrali con Danilo che si sposta sul centro-sinistra e viene fuori esattamente dato che sappiamo che Cambiaso entrerà dentro il campo quella difesa 3 che avevo ipotizzato nel video di Seacolf e cioè Bremer centrale Danilo a sinistra Calulu a destra ancora una volta situazione d'emergenza perché perché la Juve servirebbe principalmente un giocatore di piede mancino in quella porzione di campo eppure stiamo continuando a non acquistarlo quindi Danilo dovrà fare un po' gli straordinari nel caso ci sarà Cabal nel caso dovesse giocare Gatti ci sarà pure Bremer che giocherà sul centro-sinistra l'abbiamo già visto fare io credo che Gatti giocherà poche partite quest'anno con la Juventus perché se Calulu e Cabal per caratteristiche hanno molto senso Gatti lo vedo decisamente più indietro da quel punto di vista quindi siccome Gatti sarà uno di quelli che vedrà meno il campo in assoluto però è una mia previsione poi dovremmo fare anche il nostro solito contenuto che facciamo sempre in cui andiamo a battezzare il numero di presenza del numero di gol dei giocatori di Juventus ma quello lo faremo a mercato concluso quindi ragazzi fatemi sapere se vi ho convinto con questa analisi fatemi sapere se anche voi condividete il timore di una difesa corta fatemi sapere se secondo voi Calulu a queste condizioni può essere un acquisto giusto a me non dispiace devo essere sincero poi ovvio che avrei preferito Calafiori questo non c'è dubbio ma per la situazione in cui eravamo arrivati un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a delle cifre abbordabili ma se diventa obbligo significa che il giocatore abbado bene devo dire la verità non mi dispiace fatemi sapere la vostra non mi dispiace